Siamo arrivati finalmente a Buenos Aires nel negozio di un carissimo amico Daniel Tigani. Come vedete ha incestato il suo negozio nel nostro bellissimo paese. È un quartiere molto elegante come vedete e anche le scarpe. Il quartiere è dove è nato Papa Francesco, il nostro caro Papa. Siamo arrivati al negozio. Siamo arrivati al negozio. Ecco, fa una certa emozione vedere Bazzano iscritto qua. Siamo arrivati al negozio. Siamo arrivati al negozio. Siamo arrivati al negozio. Siamo arrivati al negozio. Allora, Marius, ti piace? Sì, sì. Ha visto? Quando l'hai visto su Facebook, non ci credevi? Siamo arrivati al negozio. 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 E in ogni sua cosa c'è sempre ricordo di Bazzano. Siamo arrivati al negozio. io sempre c'è l'olio non so che c'è l'uomo per aver guardato il mondo non so che la casa già non c'è l'uomo si è la sua quindi dalla produzione direttamente non c'è roba di portazione fanno tutto loro costruiscono non è un problema perché tu dico che non si copoteva un'ipoteca e non paro mai no, mi papà le sacò un'ipoteca sono le cinture con un problema non so, non so e si, quindi chi ha sacato chi ha sacato un'ipoteca il papà le dice che si sa un'ipoteca tutto bene tutto bene tutto bene perché il mio papà si è portato da 20 anni il mio papà si è portato come si è portato e già sta tutto bene perché per questo siamo paisano per questo siamo dentro della famiglia a ver sta bene? se te sale di Maria, se te sale no, no, sta bene va bene? si mi piacciono con la comodità di questo sono belli no? si sono comodo lo vediste no, 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 no si 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 mi gusto si, siamo ben no convivimo, no quiero convivir con nadie si 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 Grazie a tutti.